E continuo l'applauso, big round blues, direttamente dallo Skipping Department e la personale di cabine, io che ben Stuart, accompagnati da un bellissimo Papi e Ernesto Skipping Manager E ringraziamo i special thanks per loro, from them, dai bar di bordo, from bars on board Signori e signori, tonight for you, our bar department Megoni, groni, sprizzi, aperitivi, caffè, i bar di bordo Ed ora, signori e signori, per me è un grande onore e un piacere ripresentarvi, richiamare qui, tra noi, il nostro restaurant manager Ladies and gentlemen, tonight for you, special guests, our restaurant manager dell'Italia, from Italy, Mr. Massimiliano Di Buono E continuiamo con questo applauso per i suoi eccellenti secondi metro d'hotel Don't get on your suit Don't get on your suit And be constantly Don't get on your suit Because suddenly Because suddenly Because suddenly Grazie a tutti.